Ho preso la pistola, ho sparato, sono morto. Ma come morivo io, Leon? A Giobbe Covatta e Pino Quartullo, con il loro Hollywood Burger, una commediola divertente ma impegnativa, il compito di aprire ufficialmente la stagione teatrale Frusinate, il primo di dieci appuntamenti che riprendono la tradizione, interrotta drasticamente dalla pandemia, e che si riaffaccia, sempre col timore di dover smantellare da un momento all'altro per la recrudescenza del virus, ma con la felicità di ritrovarsi ad applaudire dopo aver goduto di uno spettacolo in carne, ossa e voce. La forza, il genio e il calore degli esseri viventi e soprattutto di quelli che possono chiamarsi artisti. Una serata che ha riservato anche una sorpresa. Nei suoi saluti iniziali, il sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani, ha annunciato l'arrivo del secondo teatro comunale, qualità che fa di Frosinone l'unica città ad avere due strutture del genere di proprietà pubblica nel centro-sud Italia. Non male per una cittadina relegata da troppo tempo nelle retrovie delle classifiche nazionali, anche per la proposta culturale. Grazie all'acquisto di questo teatro, otto anni fa, che fu visto come una sorta di azzardo all'inizio, ma in realtà segnò un momento di contrattendenza, perché questa era una città che purtroppo, fino a qualche anno fa, non aveva la dotazione di un teatro, soprattutto un teatro aperto e di proprietà comunale. E allora una piccola chicca, che questa sera è un piccolo dono che vogliamo rimettere alla città, è una notizia importante. La prossima settimana partirà la gara d'appalto per la ristrutturazione del secondo teatro comunale, che è il Teatro Vittoria, un teatro d'essè che si trova a 800 metri da qui, e quindi questa sarà l'unica realtà del centro sud Italia ad avere due teatri di proprietà comunale. Credo che sia un bel successo, soprattutto da come eravamo partiti.